Tre giornate alla fine del campionato, un punto di vantaggio sulla zona play-out dal Trapani, versione rullo compressore nel girone di ritorno che ha clamorosamente riaverto i giochi salvezza che sembravano illusoriamente chiusi. L'Avellino non può fare altro che rimboccarsi le maniche e andare all'assalto del Bari sabato pomeriggio al Partenio Lombardi per evitare un finale di stagione, versione incubo. Concentrazione sull'erba sintetica dello stadio Nico, dove oggi si suda come ormai sempre a porte chiuse e sguardi inevitabilmente rivolti alla classifica dove c'è da registrare una significativa novità. Da oggi il Latina è aritmeticamente in lega pro per effetto di una penalizzazione di 5 punti che è andata a sommarsi ai due che erano già stati sottratti in precedenza al club pontino per inadempienze amministrative. I laziali, attesi dal Brescia nel prossimo turno e proprio dall'Avellino nell'ultimo, sono scivolati all'ultimo posto alle spalle del Pisa. Preso atto della variazione in graduatoria, il lupo deve però necessariamente guardare in casa propria. In attesa di novità sulle condizioni di González, ieri indisponibile, e Belloni alle prese con un risentimento al quadricipite della coscia destra, non può che ascoltare i rumors provenienti dalla Sicilia, che vorrebbero il direttore sportivo De Vito al centro dei pensieri del Palermo. Non più tardi dello scorso 21 aprile, ai microfoni di 8 Channel, il dirigente aveva commentato così l'eventualità di un trasferimento in rosa nero. Una delle voci più chiacchierate, si è già diffusa da Palermo, di un possibile interesse di rosa nero. Quali sono gli scenari per il suo futuro? No, ma io penso solo ora alla salvezza dell'Avellino. Poi si è lavorato bene, si è lavorato male, non sta a me dirlo. Ringraziando Dio mi occupo anche di altro. Ad oggi sto benissimo qui. Si vedrà la priorità ora è riscattare il passo falso nel derby col Benevento e dare lo strappo finale per brindare. Alla salvezza!